camera a me ragazzi venite qua entrate mi stavo un po' preparando sul video che vi devo presentare oggi bene so che a voi piace tanto quando faccio il video di Lion e quindi ecco a voi il nuovo trading card gamebook di Lion con le apposite card ecco qui guardate quante ne ho eccole qui ovviamente trovate tutto 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 in edicola prima di farvi vedere le carte vi faccio vedere il raccoglitore bene allora prima pagina abbiamo tutto il regolamento perché con queste carte si può anche giocare la raccolta si chiama sopravvivenza estrema perché in questa avventura Lion e i suoi amici restano bloccati al polo nord e nel deserto e durante il loro viaggio incontreranno tante creature spaventose e mostruose come zombie orsi arrabbiati altri orsi arrabbiati pinguini sembra carino però sembra arrabbiato poche tecchi ieti struzzi serpenti ed ecco qui tutte le card tra tutte queste carte ci sono quattro card rainbow ultra rare e cento di queste sono firmate in esclusiva da lion in ogni bustina trovate cinque card ecco qui una card hollow in questo caso è questa qui due card metal e due comuni le carte si dividono per categoria eccole qui ci sono le card esploratore come questa qui di Alex le card aiuto come queste tre in questo caso poi ci sono le card pericolo le card risorsa le card missione e le card vita allora dividerei le carte in gruppi per categoria quindi in questo caso qui mettiamo le carte aiuto qui le carte esploratore qui le carte missione e poi qui faremo gli altri tre gruppetti allora 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 cominciamo ad aprire abbiamo una carta di Anna holo poi una carta missione una carta aiuto abbiamo lion e piadina eccolo qui continuiamo subito io tengo l'album qui perché magari se trovo una carta rainbow ultra rara è meglio guardarci insomma allora abbiamo ritrovato Anna holo poi una risorsa una carta risorsa del cuoio carta pericolo gelo notturno aia aia non va bene non va bene carta risorsa e carta risorsa un seme una pianta continuiamo la carta aiuto l'armatura di diamante mamma mia allora mettiamo questa qua carta holo poi abbiamo le due carte missione mettiamo un po' eccole qua questa e questa poi una carta aiuto qua qua è un pericolo un'entità è un veil veil si dice non so ecco qui un mostro mi aiuto sembra un fantasmino volante procediamo vediamo un po' allora una risorsa legno assi di quercia sci aiuto una barca una barchetta carta missione carta missione si coltiva bene e una carta aiuto con uno spawner vediamo un po' pericolo aridità il contrario del gelo notturno ecco qui uno struzzo che non ci vuole tanto bene a quanto pare perché è un pericolo bene carta aiuto una corda risorsa e aiuto una carta holo una tempesta di sabbia un tornado carta pericolo carta aiuto arco e frecce bene lion esploratore oh mamma mia una una palina va bene missione carta pericolo sole coccente che scioglie anche le ossa degli scheletri bene carta aiuto una pozione puzzosa che non profuma se puzza non so cosa possa aiutare a cosa possa servire di aiuto magari dalla puzza fa scappare via i mostri penso che questa qui sia una carta rim ultra rara penso proprio di sì e questa è una carta rim ultra rara vediamo un po' eccola qua simpatica mi piace guardate l'effetto una spada infuocata bella questa la mettiamo qui mario carta esploratore una pala sembra di ferro di acciaio allora feiri esploratrice cantiere archeologico si trovano alle piramidi sottoterra bene zitto ogni card cioè in un punto di ogni card adesso vi faccio vedere qui sotto esattamente qui c'è un numerino in ogni card quindi qui dice carta numero 9 noi andiamo sul nostro magico raccoglitore andiamo carta numero 9 si inserisce in questo modo nei due spigoletti perché poi gli altri due spigoletti che ci sono qui servono dall'altra parte della pagina poi abbiamo anna esploratrice una banana una banana bene una bistecca e una carta missione bene dobbiamo ancora trovare le carte vita però eccola cuoricino verde deltaplano carta aiuto poi abbiamo un pericolo un trichico un po' arrabbiato bene cioè non bene e poi abbiamo un altro pericolo il sole che cuoce un altro pericolo mamma mia poi carta aiuto abbiamo uno stefano oh mamma mia che esplora c'è un alex alquanto fulminato carta pericolo tempesta di fulmini la lampada dei desideri la lampada di aladin per dire così carta missione lampada magica ho queste ultime due bustine poi due finite speriamo di trovare un'altra carta ultra rara allora abbiamo uno squid allora poi che abbiamo abbiamo questa qui che è metallo carta risorsa e dov'è? risorsa poi abbiamo un dromedario molto arrabbiato strecatto e Anna rainbow bene eccola qua ho le mettiamo qui però due carte rainbow spero che ne esca un'altra però ci vanno bene ci vanno bene vediamo un po' su una scatola intera mi sono uscite due carte rainbow bene vediamo un po' Anna con un'armatura rosa abbiamo Mario abbiamo un tesoro un baule un baule carta missione poi abbiamo un'altra carta missione con un impianto fotovoltaico e sabbie mobili con Alex che ci finisce dentro ragazzi ragazzi vi è piaciuto questo spacchettamento di bustine di carte le trovate tutte in edicola saluto Lion e i suoi amici saluto voi e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi ciao a ciao a a a a Grazie a tutti.